Qui a Sieli si è fatto passare un brutto 5 secondi, grandissimo gol di Matteo Spereira e Cipriota che con una burta da mettere fra le gambe per chiudere la linea di passaggio del pallone con Matteo Spereira che poi arriva e scucchiaia, grande, grande gol, 3-3 sfiorato prima da Bernardeschi trovato poi da Matteo Spereira, poi addosso è che gli ultimi cambi sono stati tutti i ragazzini a parte...